Il lavoro è duro, il grande exercice è l'aluminazione dell'elettrica dei piedi, abbinato alla tecna, poi andiamo a fare tattica, ok, qui in combinazione di tecniche, vediamo un po' mettiamo l'avversario come ci si arriva, come si muove, alla fine se riusciamo a fare tecniche di incontro, un po' di proiezione, il lavoro importante è la parte iniziale, dovevi dare il massimo, ok? Allora 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 nel karate più sciolti si è, sia spalle che gambe, sia braccia che gambe, più veloci si è, ci siamo, nel cucilato stanno così, non tratti perché c'è capo, da qua, ok, perché il contratto deve essere forza, nel karate non c'è bisogno di forza, o almeno una minima percentuale, c'è bisogno di rapidità e scioltezza, quindi le spalle devono stare sciolte, adesso, guarda, così, lui vede quando lo faccio, e capisce, invece così sciolto, se lo faccio, parto, posso partire quando voglio, non se ne accorge, qui, quello stesso che potete fare, che io dico sempre, è questo qua, vedete qua, state sciolte così, e partire quando voglio, posso partire come voglio, qua posso partire come voglio, parto, parto, sciolto, parto, parto, come voglio, se io sono sciolto, parto, se io sono così, già qua, guarda, guarda, non va bene, ma deve essere forza, quindi, guardate, contratto, ok, sciolto, quando parto, mi contratto, quando parto, mi contratto, ma deve essere un attimo, quando parto, sì, quando parto, quando parto, un nanosecondo, non mi contratto, quindi tanti di voi facevano questo, tutti i contratti, no, ricordate, più sciolti si è, più veloci andiamo, ne posso dirci una, qua sono coraggioso, non lo dire completamente, ci siamo, coraggioso lì, abbasso, ci volo anche e vado, ci siamo, ormai, il combattimento è tutto jota, e ci sono ormai tutte le schivate, quindi quarto jota, schivo, quindi sciuta, non può essere una bella sorpresa, quindi alleniamo le rievo sui sciuta, ci siamo, ormai sono tutti veloci sopra, ma abbasso è schifo, ci siamo, qui, questa è la prestazione, cioè, anche quanto il piedreggio, se lui viene avanti, io faccio questo, viene avanti, non lo viene messo così, non posso mai partire, sono messo marzo, se io sono messo bene, quindi così, tieni veloci, io sono messo bene, indietreggio, parto quando voglio, ci siamo, indietreggio, parto, questo qua è messo bene, sono allenato sui piedi, sono allenato sui piedi, vai, può essere anche una trappola, una porta spasso, potreste capire che vado indietro, mi sposto, trappola, bam, siamo, però io sono sempre bene, me ne ho già metto così, e voglio partire, devo fare questo, giro, e parto, e nel frattempo sono tre pugni.